Dottor Besseghini, quest'anno Amade Expo sarete presenti anche voi. La vostra società tra l'altro ha siglato anche un importante accordo con Federlegna Redo per la valutazione dell'impatto ambientale all'interno dell'industria. Potrebbe riassumerci brevemente questa iniziativa e il perché siete presenti alla manifestazione? Siamo presenti a Amade perché la partecipazione di RSE e del gruppo GSE è un elemento fondante per promuovere lo sviluppo di questo settore. Perché? Perché il tema dell'energia, dell'efficienza energetica, della ricerca sugli impianti innovativi, dell'accoppiamento impianto involucro è un aspetto fondamentale per dare alle imprese la capacità di inserire know-how, quindi conoscenza all'interno dei propri prodotti. Ormai è provato che il prodotto riesce a stare sul mercato, sul mercato internazionale se contiene conoscenza, se contiene innovazione, se è in grado di essere differente rispetto a quello che i competitor offrono. Noi svolgiamo attività di ricerca sul tema energetico, sull'efficienza energetica, sulla capacità di inserire questa conoscenza all'interno dei prodotti. Venire a presentarla a MAD Expo con un sistema non solo di presentazione di RSE, ma di un'intensa attività seminariale per riuscire a spiegare gli numerevoli settori in cui si può sviluppare questo tipo di attività, ci è sembrato un'occasione da non perdere.